Anticipazioni uomini e donne, la scelta di Andrea Sibeca un lo, Carlo spiazzato. L'appuntamento con uomini e donne si avvia verso le fasi conclusive di questa edizione e le anticipazioni finali rivelano che ci sarà spazio per la scelta di Nicole. La tronista lascerà tutti senza parole nel momento in cui deciderà di annunciare, a sorpresa, di voler portare a termine il suo percorso e svelare così il nome della persona con la quale intende costruire il suo percorso. Nel dettaglio, gli spoiler sulla scelta finale di Nicole a uomini e donne sono state diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, il quale ha fatto sapere che Nicole ha scelto Carlo. È lui il pretendente che ha avuto la meglio rush finale di questo percorso, portando così la tronista a fidarsi completamente di lui e a credere nel loro futuro insieme. Carlo è rimasto a dir poco spiazzato dalla decisione di Nicole dato che, nelle ultime settimane, la tronista sembrava essere proiettata maggiormente verso Andrea. Al contrario, invece, le anticipazioni su uomini e donne rivelano che Andrea ha dovuto incassare questo sonoro rifiuto da parte della tronista. Il ragazzo non ha mosso critiche nei confronti della ragazza dopo aver scoperto il verdetto finale, ormai rassegnato dal fatto di aver perso la sua chance. Si chiude così il percorso della tronista che, nel corso di questi mesi, è stata più volte al centro di critiche e polemiche in studio, mosse in primis da Roberta Di Padua.